Musica Continuano gli attacchi terroristici contro la popolazione civile della Repubblica di Donetsk. Quattro persone, tra cui un bambino, sono state uccise e altre sei persone sono rimaste ferite nel bombardamento con proiettili della Nato del villaggio di Pantelei Monovka. Il Ministero della Sanità russo ha anche informato sulle condizioni delle vittime dell'attacco di giovedì a Belgorod. Al momento restano ancora ricoverate 14 persone, di cui due bambini. I medici ora stanno lottando per la vita di un paziente. Giovedì i militanti di Kiev hanno usato l'artiglieria missilistica contro i civili. Gli obiettivi erano un centro commerciale e i campi sportivi di una scuola. Tra le sette persone uccise c'erano una bambina di un anno e la sua mamma. La seconda giornata della conferenza sulla sicurezza si è svolta a Monaco di Baviera. Ancora una volta, senza la Russia si parla della Russia. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, insieme ai suoi alleati, continua a portare avanti il tema dell'aumento delle forniture di armi agli ucraini. Zelensky è intervenuto al forum come al solito, implorando, pressando e persino minacciando. Nel frattempo, migliaia di cittadini hanno manifestato nel centro della capitale della Baviera chiedendo il cessato il fuoco e l'avvio dei negoziati. Il Texas inizia la costruzione di un campo militare al confine con il Messico, lo ha annunciato il governatore Greg Abbott. La struttura ha detto potrà ospitare 1800 soldati, ciò rafforzerà la capacità dello Stato di proteggere i suoi confini. Il Texas sta quindi cercando di contrastare l'afflusso di immigranti illegali, che, secondo le autorità di questo Stato, è colpa di Washington. Il regime di Kiev sta cercando di nascondere la verità sulle violazioni dei diritti dei credenti in Ucraina. Il monastero Pechersk Lavra di Kiev ha pubblicato un appello a organizzare una campagna di informazione a tutela del clero e i parrocchiani ortodossi. I rapporti che Kiev invia all'ONU non corrispondono alla realtà, cita il monastero, che invece ha presentato come prova numerosi esempi di violazioni della libertà religiosa. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha premiato i soldati che si sono distinti per il loro coraggio ed eroismo nel distretto militare settentrionale. La cerimonia si è svolta nell'ospedale Vyshneski, dove si trovano i soldati feriti in combattimento nella regione nord del Donbass. A presto. I kleine fentulu boat all'on aparte pensato della libertà di incentrile